Lettura della sentenza in Cassazione per quel che riguarda la tragedia di Rigopiano differita al 3 dicembre, così ha deciso il giudice al termine di due giorni di lunghe udienze qui alla Corte di Cassazione in Piazza Cavour a Roma. Oggi giornata dedicata agli interventi degli avvocati e difensori, da questa mattina l'ultimo intervento intorno alle 16.30, due giorni in cui si è ripercorso passo passo nei minimi dettagli tutta la vicenda processuale, in qualche modo legata a questa tragedia. Sostanzialmente si parte dalle richieste del Procuratore Generale che riguarda la posizione di 15 dei 30 imputati, in particolare tra questi l'ex prefetto Francesco Provolo, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, il tecnico comunale Enrico Colangeli, sei dirigenti della regione ed altri quattro della prefettura per i quali si chiede un nuovo processo in corte d'appello su ulteriori capi d'accusa relativi al disastro colposo e all'omicidio colposo. Il 3 dicembre dunque il giudice chiarirà da questo punto di vista con il suo dispositivo. Al termine dell'udienza abbiamo raccolto alcune voci, in particolare quella di Federica Di Pietro, figlia dei coniugi di Pietro, tra le 29 vittime dell'hotel Enrico Piano. Federica Di Pietro che in qualche modo ha ricordato le parole drammatiche di Gino Cecchettina nei giorni scorsi quando ha sottolineato la mancanza per così dire di umanità di alcuni avvocati difensori. E poi le dichiarazioni di Vania della Vigna, parte civile di Silvia Angelozzi. Ascoltiamo dunque questi contributi. Sì, dobbiamo aspettare martedì e vedere, non lo so l'esito sinceramente, non ho moltissime parole perché oggi e ieri ho assistito ad una lotta tra valorosi legali. Quindi è stato uno scontro a chi è stato più bravo a scrivere l'atto. Poche volte si sono menzionate le persone protagoniste di questa vicenda. Quindi io veramente mi domando, ripeto, oggi pensare a, dopo tutti questi anni, pensare alla tragedia che ci ha colpito, alle persone che se ne sono andate. E che cosa ho dovuto osservare una guerra tra legali, a chi è stato più bravo, a chi è stato più dotato mentalmente, si intende. Però non si è mai parlato del perché queste persone sono morte. Perché? Perché sono morte quando tutti si potevano salvare. Perché? Io voglio sapere ancora oggi il motivo per cui sono morte queste persone. Io ho anche ascoltato delle banalità, come sentirsi dire che in tutte le località montane adesso non ci possono più stare delle case o delle costruzioni. Quindi banalizzare l'importanza della carta valanche, quando probabilmente se noi avessimo avuto una carta valanche, probabilmente l'hotel sarebbe sì, è vero, rimasto ancora lì. Ma magari c'era una rete di protezione esattamente come si usa al nord Italia o comunque dappertutto. Questa per nominare una delle tante banalità che ho sentito in questi giorni. E poi voglio dire un'ultima cosa che mi avvicino alle parole dette da Gino Cecchettini, che ho letto proprio questa mattina, in cui lui si è sentito offeso e anche io mi sento offesa. Perché va bene, la difesa degli imputati è giusto, è un diritto sancito nella nostra Costituzione, ma la difesa deve comunque avere un decoro e deve avere un limite, perché se si prevarica quel limite si offendono le persone che non ci sono più, che sono i reali protagonisti di questa vicenda, non le stronzate per difendere gli imputati. Ci si aspettava un po' questo differimento? Sì, io me l'aspettavo perché i tempi sono stati abbastanza dilatati, dopo tutto è un processo molto complesso. Le richieste del procuratore generale sono state molto articolate, così come anche i ricorsi degli avvocati e degli imputati. Quindi è giusto, in un processo così complesso, che si dia tempo ai magistrati di poter decidere con serenità. E noi, con altrettanta serenità, attendiamo una sentenza che sia giusta. Ecco, dai parenti delle vittime è stato detto tanto esercizio di stile, forse in certi aspetti poco rispetto per le vittime. Ma no, io non ho notato questo, devo dire la verità, io ho notato il rispetto degli spazi e dei tempi, i tempi sono processuali e sono questi, anche per gli altri maxiprocessi dove sono stata, dal crollo della gara. Non tanto nei tempi, quanto nel tono delle ringhe. Ah beh, questo purtroppo lo stiamo sentendo in questi giorni, anche in televisione. Ognuno difende con il diritto di difesa, ecco questo è sicuramente il rispetto per tutte le parti processuali ci vuole.